Buongiorno siamo qui all'ISE 2012 ad Amsterdam nello stand della Valentini con i prodotti Syntax. La Valentini è un'azienda che si occupa di materiale per eventi e oggi in particolare vi facciamo vedere il nostro connettore combinato audio video. È un connettore con sei contatti coassiali per il video e otto canali audio combinati. Abbiamo delle versioni volanti sia maschio che femmina, delle versioni da pannello, il box cronista con otto canali audio e sei canali video, un box heavy duty e un cavo dedicato. La fiera ISE 2012 si occupa di sistemi integrati per noi della Valentini è il primo anno qua, abbiamo notato un grande interesse verso le nuove tecnologie e le possibili applicazioni future soprattutto in campo audio e video.